Come mai c'è tanta delusione da parte vostra? Abbiamo portato un'interrogazione nella quale chiedevamo l'UMI per quanto riguarda la stagione estiva che sta arrivando, quali interventi sono programmati, soprattutto interventi ordinari. Sappiamo la situazione finanziaria del Comune, sappiamo che non sarà difficile fare qualcosa di eccezionale, però almeno l'ordinario che era stato promesso in campagna elettorale lo pretendiamo e lo prendono i cittadini di Terme Vigliatore. Secondo voi Terme Vigliatore ha fatto un passo indietro dopo le elezioni? Purtroppo Terme Vigliatore si trova in questa situazione da 30 anni, completamente ferma su alcune posizioni, soprattutto sul lato turistico si continua a improvvisare, non c'è nessuna programmazione, si arriva magari anche a giugno con una sistemazione di docce, pedane per disabili, strisce pedonali, per esempio, soprattutto nelle zone balneari. L'improvvisazione non si sposa con il buon senso, non si sposa con la buona organizzazione, siccome dopo due anni che l'amministrazione di Munafuera è stata molto criticata per la sua lentezza amministrativa, questo cambio di passo tanto atteso non c'è stato dopo i primi sei mesi. Dunque voi chiedete soltanto una maggiore collaborazione e una programmazione? Noi veniamo dal mondo dell'associazionismo, sappiamo che è difficilissimo fare le cose, quindi non vogliamo essere una opposizione bacchettona, sappiamo che è difficile fare le cose, però bisogna mettersi poi in campo e farle materialmente. Io non sono sorpreso, tutto il gruppo ora, tutti i consiglieri comunali l'avevano detto anche in campagna elettorale perché effettivamente viviamo da 30 anni in questa situazione, tutte infatti le imprese turistiche storiche di Termeviatore hanno chiuso negli ultimi 30 anni, quindi personalmente non ho nessuna sorpresa. Ma chiediamo appunto per rispetto ai Termeviatore che ci siano risposte soprattutto dell'opposizione, ci sono state delle interrogazioni che non hanno avuto nessuna risposta, questo oltre che illegale insomma è una mancanza di rispetto verso i consiglieri comunali ma verso i cittadini che noi rappresentiamo. Non abbiamo ancora un'aula dentro il comune per fare le riunioni come opposizione come prevede la legge, ieri in consiglio comunale ci è stato detto che a breve ci sarà stata affidata, ieri in consiglio comunale ci sono state fatte tante promesse, però ripeto a nome del gruppo ora e di tutti i consiglieri, ieri se la giunta per esempio ha interrogato l'assessore allo spettacolo per quanto riguarda gli eventi estivi che vanno programmati adesso. A che punto sono e le risposte purtroppo non sono mai dirette e decise.